Caos calmo a Taranto, sbloccati i presidi e tornati in fabbrica gli operai, gettati nel limbo in attesa di protesse e riesame il 2 e 3 agosto. Fine primo atto insomma, ma con la nuova settimana il caso Ilva riprende la scena. L'attesa è tutta per giovedì e venerdì per il 2. I sindacati metalmeccanici di CGL e Cislewil hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con manifestazione ed assemblea pubblica in città. Ma vera regista in questi giorni torna a essere la magistratura. Una sola parola martella nelle menti degli operai come dei dirigenti. Riesame, anche se a conti fatti ci vorrà una settimana circa per conoscere il verdetto in merito ai ricorsi presentati dall'azienda contro le otto misure cautelare ai domiciliari per dirigenti ed ex dirigenti del gruppo Riva e contro il sequestro dei sei reparti incriminati. Coccheria, ceierie, parchi minerali, area agglomerazione, area alti forni e gestione materiali ferrosi. A fila le armi intanto la difesa, la battaglia legale degli avvocati dei Riva e degli altri sei arrestati è tutta puntata a giovedì. Nel frattempo gli otto indagati attendono l'interrogatorio di garanzia che si terrà davanti al GIP Patrizia Todisco. Il giudice che con parole inequivocabili ha scritto nell'ordinanza, chi gestiva e gestisce l'ILVA ha continuato nell'attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto calpestando le più elementari regole di sicurezza. Parole alle quali la fabbrica tenta di rispondere in termini di inattendibilità delle perizie. Altro momento importante lunedì con l'ordine del giorno aggiuntivo dedicato all'ILVA in Consiglio Comunale a Taranto. Settimana intensa insomma, giorni in cui il siderurgico più grande del continente resterà e farà restare tutti col fiato sospeso fino a nuove decisioni.